Prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari e tumori a tavola l'importanza di materie prime non trattate è testimoniata dai dati di crescita dell'insorgenza delle patologie. Gli specialisti lanciano un appello che sarà il tema centrale del convegno intitolato ambiente più alimentazione uguale prevenzione. Le patologie emergenti in questi ultimi 40-50 anni dipendono fondamentalmente dal nostro stile di vita. L'alimentazione è allo stato attuale il primo modo che noi abbiamo per difenderci è per cercare di far diminuire l'incidenza delle malattie attuali quindi tumori, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche. Per quanto riguarda i tumori c'è costantemente un aumento delle incidenze. Quando io ho cominciato a fare la senologia avevamo il 30.000% di incidenza e adesso siamo arrivati quasi al 200.000. Il primo modo di difenderci è con lo stile di vita, prevalentemente l'alimentazione. Quello che non deve mancare quotidianamente sono le verdure, seguendo tantissimo la stagionalità che è fondamentale, legumi, cereali tutti i giorni, sicuramente tutti i giorni, aumentare le porzioni settimanali di pesce, diminuire i grassi animali. La carne non è detta che non è detto che non si debba mangiare. Bisogna vedere come vengono alimentati, come vengono nutriti questi animali che poi noi mangiamo.